Fuori da Buckingham Palace in molti esprimono messaggi di pronta guarigione e tanto affetto per la regina Elisabetta II. Da domenica 20 febbraio risultata positiva il Covid-19, per fortuna con sintomi simili a un lieve raffreddore. Secondo fonti reali, la Queen continua a svolgere piccoli compiti di lavoro mentre si riprende dal virus. Spero che sia bene, che non abbia davvero sintomi terribili e speriamo che passi in fretta. Afferma Karin, studentessa, intendo dire, tutti lo hanno avuto a un certo punto, era destino che lo avesse, ma speriamo che sia bene. Ovviamente è triste, non è vero, lei è un simbolo della nazione, ovviamente le auguro di stare meglio, afferma Pasquale, ricercatore medico. Ha il booster e tutto, quindi dovrebbe stare bene, ce lo auguriamo. Un sacco di persone lo hanno avuto, aggiunge McLean, studentessa, è difficile non prenderlo, credo che se non si ammala gravemente, allora tutto andrà bene. La monarca britannica è testata positiva dopo essere entrata in contatto con il figlio, il principe Carlo, positivo il 10 febbraio per la seconda volta. La prima era stata a marzo 2020 e che ha contagiato anche la moglie, la futura regina consorte Camilla, quattro giorni dopo. Sono certo di parlare a nome di tutti, augurando a sua maestà una rapida guarigione dal Covid e a tornare velocemente in ottima salute, ha scritto via Twitter il premier Boris Johnson che si avvia a dichiarare il Freedom Day quando cadranno tutte le restrizioni anti-Covid nel paese. Tanti messaggi inviati dal mondo politico alla regina due settimane dopo il raggiungimento dello storico giubileo di Platino, ovvero 70 anni di regno, mentre ad aprile Elisabetta compirà 96 anni.